ciao a tutti ragazzi recomi qua sono tornato con un video velocissimo perché l'entusiasmo è troppo non riusciva a dormire mezzanotte e mezzo maudante un utente di youtube mi ha detto megatiger quella reliquia si apre io ho chiesto il link per avere le cose semplificate in realtà poi mi ha detto effettivamente che non ci sarebbe stato gusto ad aprirla con un video e così mi sono sbattuto sono tornato a casa ho tentato varie combinazioni ed effettivamente la reliquia si è aperta cosa c'è al suo interno ve lo voglio mostrare in anteprima ecco qua un bigliettino direttamente criptato dall'alveare di destiny con dietro un codice che darà diritto ad un emblema speciale dell'alveare ecco qua niente il video in realtà è tutto qua io credevo che questo oggetto fosse un oggetto da collezione ma non avesse un'utilità pensavo al limite che ci potesse essere qualcuno utilità in gioco con queste appunto combinazioni di simboli ma in realtà come ripeto mi ha consigliato mi ha detto maudante l'oggetto si apre eccolo qua io di video su youtube di fatto non ne avevo visti quindi è stato proprio lui a svelarmi la cosa ed ecco a voi il bigliettino segreto del alveare con il codicino è un video flash è inutile che mi dilungo in altre cose ho già riscattato i codici non vedo l'ora di mettere in scarico il mio bel dlc di destiny vi aspetto numerosi online ci si becca ciao a tutti grazie grazie